In occasione del Festival Cambiamenti che avrà luogo alla Ceramica Vaccari dal 21 al 24 novembre ci saranno per tutto l'arco di queste quattro giornate una serie di punti d'ascolto per parlare di assistenza, fondi previdenziali utili per chi cerca e offre lavoro e tra questi ci sarà anche la Conform. Cosa vi ha spinto ad aderire a questa manifestazione? Sicuramente il tema. Trattare il tema del benessere organizzativo con un'accezione così ampia è stato l'elemento che ci ha sostanzialmente più intrigato. Quindi partecipiamo con molto interesse cercando di dare anche un contributo perché riteniamo che la tematica del benessere organizzativo affrontata con questo taglio quindi con questa apertura su quello che può fare chi lavora all'interno dell'azienda e quello che può fare l'azienda per chi lavora all'interno dell'azienda con l'obiettivo di creare una situazione win-win dove vincono tutti sostanzialmente è la cosa che sostanzialmente ci interessa e che perseguiamo anche nel momento in cui la tematica ad esempio del cambiamento che è una tematica che sostanzialmente si coglie in tutto il cambiamento di Work Festival è la tematica che perseguiamo anche noi nel momento in cui affrontiamo la nostra attività durante le nostre consulenze. Ecco sarete presenti per tutto il pomeriggio della giornata di venerdì 22 novembre e sottoporrete anche a chi vorrà un test. Sì, si tratta del test Chi animale sei? È un test tra il serio e il faceto, mettiamola così permette sostanzialmente di definire una soglia di cambiamento, di adattabilità della persona e associamo sostanzialmente il risultato del test a un animale naturalmente non configura una scala gerarchica quindi non viene fuori un qualcosa, cioè qualcuno è meglio di un altro però viene fuori che qualcuno è una persona con determinate caratteristiche e pertanto sia per quanto riguarda la consulenza di orientamento nella ricerca di un percorso formativo di istruzione nella ricerca di un'occasione di placement e quindi di ricollocazione sul luogo di lavoro richiede un trattamento specifico in funzione di quella che è la propria attitudine al cambiamento.